Non sono dei manufatti, non sono delle opere pubbliche e basta, sono delle occasioni dove la convergenza tra operatori economici, soprattutto cittadini, frequentatori, la possono trasformare in un attrattore formidabile della città. Quando siamo andati in piazza Gaia Olenti, due anni fa, quando l'hanno finita, faceva un freddo alla Madonna, tirava il vento, non c'era ancora nessuno ovviamente, come lì c'è un'apertura, sembrava un Kenyan, tirava un vento gelido che portava una lastrina di ghiaccio sulla lama d'acqua, la lama d'acqua era una lama di ghiaccio. Allora, a guardare gli occhi abbiamo detto, ma sto posto o diventa Rockefeller Center o diventa Gotham City. Ecco, è diventato non esattamente Rockefeller Center, ma qualcosa di diverso, ma di grande successo, perché è stato frequentato dalla gente, perché la gente gli ha dato una finalità, ha trovato uno scopo comune, un po' come i frequentatori delle portuari, questo era un rudere, non molto tempo fa.